ciao sono Bruno di Segema oggi ti parlo delle riceventi radio allora ogni tecnico che ha fatto un intervento si è trovato a risolvere un problema quando si sostituisce una centralina con ricevente integrata recuperare i vecchi telecomandi questo perché molto spesso magari l'intervento si fa in un condominio dove non è possibile far ricomprare a tutti quanti il telecomando oppure il cliente anche privato non è disposto a ricomprare 5, 6, 7 telecomandi a seguito del busto della centrale allora in questo caso cosa si deve fare ci sono solo due strade da percorrere la prima troviamo la ricevente radio da esterno relativa a quei telecomandi e quindi diciamo inneschiamo tutto quanto un giro di ricerca per trovare la ricevente radio esterna da collegare poi alla nuova centralina oppure dobbiamo avere un prodotto valido e funzionante che possa superare il problema di ricomprare la ricevente radio da esterno quindi una ricevente universale ma che sia un prodotto certificato e funzionante cosa significa valido significa avere un prodotto che funziona noi non stiamo utilizzando una ricevente universale o compatibile come in gergo si dice per risparmiare sul costo stiamo utilizzando una ricevente radio universale perché è una maniera comoda di risolvere un problema invece di lasciare il cliente a metà del lavoro e andare a cercare la ricevente comprarla se si trova e poi andarla installare se nel furgone abbiamo una ricevente come questa che è la ricevente copy mini della Bexso abbiamo già risolto il problema in partenza un piccolo appunto come sapete io non elogio mai i prodotti compatibili e se ci sono i prodotti originali dico sempre di installare quelli là ma se noi abbiamo un prodotto valido quanto quello originale nel furgone soprattutto per quanto riguarda la ricevente radio nulla ci vieta di installarlo in modo tale da lasciare anche il cliente il meno possibile senza il cancello automatico questa ricevente cosa ha di particolare è multi alimentazione cioè l'alimento 12 24 alternata e continua è multifrequenza significa che all'interno della civente io posso programmare telecomandi anche con frequenze diverse come vedete è molto compatta è alta 72 mm larga 55 e spessa solamente 19 mm ha il connettore estraibile per fare i collegamenti in maniera più facile è protetta nel senso che la scheda come vedete all'interno di un involucro in questo modo non dovete fare invenzioni fantasiose con del cartoncino il naso isolante per evitare che la parte della scheda vada a toccare magari qualche filo scoperto ha due relais quindi due canali che sono configurabili singolarmente e che sono configurabili in maniera impulsiva che è quello di default oppure bistabile oppure possiamo programmarli come timer in secondi oppure timer in minuti oltre ad essere multifrequenza può memorizzare telecomandi hcs rolling code e codice fisso anche contemporaneamente ma soprattutto essendo un prodotto fatto per gli installatori e fatto per funzionare nelle istruzioni trovate una tabella dove avete già la compatibilità con tutti i telecomandi che lei riesce ad accettare quindi vi facilita molto il lavoro perché prima di installarla voi sapete già se questa ricevente con quel telecomando potrà funzionare perché c'è questa limitazione anche se sono praticamente la stragrande maggioranza dei telecomandi che esistono in commercio perché questa ricevente universale a differenza delle altre non è una ricevente che ha un filtro ampissimo quindi è in grado di aprire riconoscendo quel telecomando e quindi di non accettare qualsiasi cosa e soprattutto di non aprirvi il cancello così a caso solamente perché viene investita da una frequenza che si trova nell'aria infatti la differenza proprio fra una ricevente del genere e una ricevente a basso costo è che questo è uno strumento di lavoro fatto per i professionisti per risolvere i problemi e non andarseli a creare ripeto è un prodotto compatibile che non viene scelto perché costa meno di quello originale viene scelto solamente perché avere nel furgone tutte le riceventi di qualsiasi tipo di telecomando di qualsiasi marca e commercio ha un costo veramente enorme avere una sola ricevente che ci permette di accettare il 90 per cento dei telecomandi in commercio e logicamente di case costruttrici di una certa rilevanza ci facilita molto il nostro lavoro il video finisce qui se vuoi maggiori informazioni su questo prodotto vienici a trovare siamo in via quarto sant'antonio 48 a marino sull'appia dopo l'aeroporto di cialpino ciao al prossimo